Signori e signori, benvenuti a tutti e grazie di essere con noi in questo convivio confidante che è il buon cibo, il buon bere, lottare insieme e celebrare la vita. Godetevela, godiamocela, buona mostra e viva l'arte sempre! Godetevela è l'arte nelle sue diverse forme. Ci faremo accompagnare in un percorso sensoriale che parte dall'introduzione culturale di Daniela Martelli che ci racconterà qualcosa di questo posto bellissimo che ci accoglie dopodiché la parola sarà di God che ci illustrerà le sue opere, ci parlerà della sua arte e a seguire Trenta, la profumeria plantide, ci accompagna il mondo dei profumi e la sua grande varietà. Dopo siamo lieti di offrirvi un riflesso di un contenuto che possiamo consumare insieme sulle note avvolgenti, il sito e il genio scaglia e il processo in fondo poi ci sarà la presentazione del processo di parato di miglioramento da Soma, quindi gli abbinamenti di Petra creati da Davide Cipolletti. Questo per presentarvi un po' la strada che possiamo presentare insieme a me. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza, è stato presentato l'evento sia da Riccardo che da Paola, io voglio solo ringraziare chi ci ha aiutato, chi ci ha sostenuto e soprattutto voglio ringraziare Fuad che è un artista di livello nazionale, vuol dire a questo il livello nazionale anche di più è la sua buonità, la sua sensibilità ed è per questo che l'abbiamo scelto per rappresentarci nel nostro livello. Grazie.